I carabinieri di Torre Annunziata hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare nei riguardi di 16 persone per associazione a delinquere finalizzata la falsificazione di documentazione assicurativa, falso in scrittura privata e concorso in esercizio abusivo dell'attività di intermediazione assicurativa. Nel corso dell'operazione sono stati sequestrati anche alcuni immobili utilizzati come sede delle agenzie periferiche di compagnie assicurative. Troppi erano gli automobilisti che controllati dai carabinieri presentavano il contrassegno assicurativo palesemente falso. Ecco come è nata l'indagine. Le assicurazioni infatti non erano regolarmente registrate all'Associazione Nazionale delle Imprese Assicuratrici. I contratti poi venivano intestati a soggetti giuridici inesistenti, da società a cooperative e associazioni. Poi, con un ulteriore passaggio di proprietà, venivano intestate al cliente finale che pagava l'assicurazione a prezzi stracciati. In manette sono finite 16 persone, di cui 2 in carcere e 14 ai domiciliari. Sempre questa mattina, nel quartiere di Secondigliano, i militari dell'arma, durante alcune perquisizioni domiciliari, hanno sequestrato manoscritti contabili, 60.000 euro in contanti, orologi Rolex e autovetture. Nell'operazione sono stati fermati quattro presunti esponenti del clan Vinella Grassi, per associazioni di tipo mafioso e traffico di stupefacenti.